Mi trovo abbastanza d'accordo con Giovanni sul fatto che, a livello di approfondimento che abbiamo potuto finora sperimentare, magari la nostra opinione potrebbe cambiare in futuro, Flutter sia parecchio, potremmo dire, programmatico-centrico, mentre il resto del mondo, il resto dei framework, delle tecnologie, sono andati nella direzione di separare la parte di layout dalla parte di funzionalità e quindi di programmazione. Facile pensare al cambio di prospettiva introdotto con i CSS, presentazione separata da contenuti e i framework JavaScript che, di nuovo, hanno consentito a figure professionali diverse di lavorare insieme ma abbastanza indipendentemente, una volta fissate le dovute interfacce. Per cui, ci siamo abituati a più figure specializzate per ogni campo, che lavorano all'assessore app, il webmaster per la parte di HTML, webdesign, CSS, il programmatore JavaScript. Android stesso, nella sua modalità standard di creazione di app, prevede l'uso di file XML che descrivono il layout in modo diversificato, un po' come con le risoluzioni, file XML chiamati con lo stesso nome, ma in cartelle diverse in base all'orientamento del dispositivo o alla risoluzione. Con Flutter, invece, no. Un ipotetico designer grafico che volesse disegnare una linea curva non lo potrà fare se non scrivendo righe di codice. D'altro canto, però, i widget, come concetto, hanno davvero tanti punti di forza, come stiamo scoprendo nella playlist. Scopriamo allora insieme quali sono i widget che ci possono essere di supporto nella gestione di questo aspetto della presentazione, la gestione dell'orientamento. Intanto, l'orientation builder, e come le classi Flutter che hanno la stessa desinenza, builder, queste non rappresentano widget con dei child, cioè un contenuto da visualizzare, ma hanno il compito di creare widget, restituirli, con una funzione che chiaramente sarà invocata nel momento in cui Flutter rileverà una modifica all'orientamento del dispositivo, al che verrà chiamata questa funzione che riceverà il contesto e un valore di orientamento del dispositivo che fa riferimento a un'ennumerazione che ha solo due valori, lo vediamo qua, dove scegliamo cosa restituire e cosa far visualizzare nel caso il valore ricevuto sia uguale al valore portrait della enumerazione orientation. Qui stiamo usando ovviamente l'espressione condizionale, quella ternaria, è l'orientation ricevuto uguale a portrait, ok? Allora restituiamo questo widget che farà apparire la scritta schermo verticale, altrimenti schermo orizzontale. Poi in casi reali ovviamente possiamo osare qualcosetta di più, invece di mettere il widget direttamente potremmo richiamare il nostro metodo layout verticale, che potrebbe costruire una griglia anche piuttosto complessa, viceversa qui potremmo chiamare un altro nostro metodo layout orizzontale. In alternativa a costruire separatamente due strutture di widget in base all'orientamento, potremmo anche sfruttare la possibilità di alcuni widget essi stessi di adattarsi allo spazio a disposizione e imitarci allora a scegliere uno dei loro parametri di configurazione interna. Commento allora questa parte e vi metto qua un piccolo esempio di quello che sto dicendo. Il grid view è un widget che in pratica organizza, come suggerisce il nome, una griglia 2D tipo tabella con delle caselle in ciascuno delle quali potremmo mettere contenuti e quello che si fa in base sempre all'orientamento è decidere l'ampiezza, il numero di slot posizioni in orizzontale. Se siamo portrait 4, se invece siamo landscape raddoppiamo 8. E lo stiamo facendo scegliendo il valore del parametro cross axis count al momento della creazione. Aggiungiamo però un po' di contenuto con il parametro children del grid view, intendo. Ho aggiunto queste 6 icone a caso. In questo momento l'orientamento è portrait, quindi le posizioni in orizzontale sono 4. Il grid diventa di 8, quindi tutte e 6 le icone di prima staranno sulla stessa riga e avanzeranno ancora a due posti. Ora invece commento l'intero orientation builder perché cambieremo proprio tipo e nel farlo mostreremo anche un esempio di come con questi widget si possa anche controllare soltanto una porzione dell'interfaccia, non necessariamente tutta la schermata. Qua sulla destra potete osservare il risultato del rendering di un column in cui i primi 4 children sono altrettante icone di cestino impilate. E il quinto child è il risultato dell'applicazione del layout builder. Ed è solo a questo che faremo restituire un widget grid che si adatterà al cambio di orientamento. Ma la parte superiore no. Ed è di fronte a questa granularità di gestione dinamica del layout che, opinione, è tutto personale, forse non ne so abbastanza. Sperimentiamo uno dei punti di forza di questa attitudine programmatica rispetto ai file XML. Vediamolo. I quattro bidoncini hanno mantenuto il loro layout, come se fosse ancora portrait, mentre la parte inferiore della schermata si è adattata in orizzontale. Ma vediamo ora col codice come ottenere questo comportamento. Ecco il column, il suo array children, le quattro icone col cestino. Poi non direttamente il layout builder, perché per poter gestire l'area messa a disposizione dal column, ha bisogno di essere incorporato in questo expanded, che abbiamo già utilizzato tra parentesi nei video precedenti. Dà quindi la possibilità al contenuto di espandersi, cosa di cui ha bisogno il grid view, altrimenti non vedremo nulla. Come l'orientation builder, abbiamo il parametro builder con una funzione, che però riceve qualcosa di più complesso del semplice orientamento. Se volete, l'orientation builder è una forma semplificata di questo layout builder, che riceve un parametro constraint, che è di tipo box constraint. E, se lo volete approfondire, ha a disposizione tutta una serie di proprietà e metodi relative alle sue dimensioni, alle dimensioni del parent, a se si può espandere, i limiti di vario tipo. Limitiamoci un po' a un discorso equivalente all'orientation. E regoliamo il valore del cross axis count, come prima, del grid view, facendo riferimento alla property width. Biggest width, cioè se la larghezza supera 400, mettiamoci in modalità, diciamo, landscape, mettiamo il count a 8, altrimenti a 4. A seguire, come prima, i children che definiscono il contenuto del grid. Infine, ma non ci ritorniamo perché ne abbiamo già fatto uso nel capitolo sulle immagini, abbiamo la possibilità di ottenere le informazioni che ci servono riguardo l'orientamento, tramite il context, usando il media query data. Andatevi eventualmente a rivedere quel video. D'accordo, non approfondiamo ulteriormente perché quando si arriva a voler gestire in modo cosciente tutti questi particolari, vuol dire che in realtà si è già abbastanza avanzati. Diciamo che qui abbiamo esaminato il minimo indispensabile. A risentirci allora nel prossimo video, che sarà dedicato all'EQI.